Nonostante ci troviamo in pieno periodo di ferie, oggi è veramente dura parlare di eventi dopo il tragico lutto che ha colpito la nostra città dove Elisa, una ragazza di soli 22 anni, ha perso la vita, alla quale va senz'altro il mio pensiero e alla famiglia le condoglianze di tutta l'amministrazione comunale di Civitanova. Per chi è stato in piazza ieri sera ha potuto vedere il concerto di Bennato, ha visto una piazza senz'altro piena, ma non saranno sfuggite di certo tutti quegli adeguamenti relativi alla sicurezza che sono stati adottati, che possono aver creato disagio a qualcuno, ma sono degli adempimenti di legge obbligatoria, alle quali anche Civitanova si è dovuta adeguare perché dopo i vari attentati terroristici a livello internazionale ci sono delle norme molto più stringenti per qualsiasi tipo di evento si organizzi. Oramai la stagione è partita e avremo un agosto ricco di eventi, quindi dopo il concerto di Bennato ieri sera, il 10 agosto avremo dopo 5 anni di assenza il ritorno di Pop Sofia a Civitanova con una serata tutta incentrata al tema di San Lorenzo, delle stelle e dei desideri, una serata voluta esclusivamente per Civitanova. Il giorno dopo un altro grandissimo concerto in piazza dei Tiro Mancino. Il 12 avremo un altro ritorno, quello di Miss Italia, i 14 consueti fuochi di Ferragosto, il 16 la processione a mare, il 18 festa del padrono fuochi di artificio e il concerto di Luca Parvarossa a Civitanovalda. Il 19 un altro ritorno che è quello di vita vita a Civitanovalda, quindi una serata solo per la città alta per poi proseguire il 24, 25, 26 vita vita a Civitanova.